amiche amici buonasera buon primo maggio si sta con le mani in mano anche no ma ci stava anche una penica comunque con le mani tutta pressa aiuto ci sono dei muscoli da paura vespe che non ve lo dico qualche app e allora che cosa vi racconto ho portato ho portato ho iniziato una canotta che va pensa diventerà una maglia perché per la consistenza del filato la canotta la vedrei un po rigida anche perché ho abbastanza filato c'è un desiderio di una nipote che vorrebbe una canotta ho messo insieme anche altri filati ma ero indecisa poi mia sorella mi ha dato una conferma e allora probabilmente mia nipote si beccherà due capi però porto avanti questo allora non ho voglia di sbattimenti ho appena terminato tre gol fati a raffica dove devo seguire degli schemi punti passaggi no o anche no allora questa maglietta sarà molto molto semplice non ancora deciso sarà degli scalfi avrà sicuramente lo scollo avu perché su quello mia nipote ecco è rimasta più cioè si è manifestata in maniera chiara ed esplicita proprio quindi avrà uno scollo avu pensavo mi ha mandato degli esempi tramite mia sorella che sono maglie tutte diverse tra loro canotte tutte diverse tra loro quasi nessuno aveva lo scollo avu quindi qualcuno era molto fluida qualcuna era nessuna era lavorata non aveva nessuna lavorazione particolare tranne una una canotta che manifestava dei rombi definiti da degli spazi quindi da dei gettati dei rombi diciamo definiti da diagonali di buchetti ma non ho voglia non ho proprio voglia di seguire di stare attenta anche no allora mi sono scelta da un pattern drops che ce l'avevo sotto al naso ultimamente un motivo da realizzare i suoi dati mia nipote vuole è magra sta bene magra e snella è un po formosetta nel senso che ha delle tette che si vedono non vuole particolari appunto che metta in evidenza esageratamente alle sue forme mediterranee è bella slanciata e quindi ho scelto questo motivo che si vedrà sotto le braccia diciamo quindi lungo la parte stretta del corpo il profilo allora quali sono i motivi sono delle coste a legaccio è un lavoro rilassante perché perché quando sono a dritto lavoro tutto a dritto quando sono sul rovescio è come è partito il marcapunto dove andà non se sa è in terra ora lo acchiappiamo aiuto quando sono invece sul rovescio ho uno schemino una righina che mi ricorda cosa devo fare e quindi alternerò delle maglie a dritto con delle maglie a rovescio ed ecco che poi sul davanti si evidenzerà questa lavorazione si vedrà o non si vedrà proprio grazie all'effetto cinè dato da dal contrasto fra il colore chiaro del cotone millefili e il lino tra l'altro sono due lini dell'inificio e il cannapeficio nazionale diversamente sottili ecco non sono uguali non sono spessi uguali ma in un lavoro così incide poco il rischio con un abbinamento di questo genere soprattutto lavorando di sera che non si acchiappi uno dei fili che non si acchiappi il lino perché essendo così diversa la consistenza tende veramente a sfuggire dalle punte che in questo caso sono smussate e le preferisco così i ferri come vedete sono dei ferri dritti in alluminio molto molto usati li ho ereditati me li hanno regalati eh chissà se l'amica riconosce i suoi ferri eh la marca è Zenith non la conoscevo il calibro è un 4,5 il cotone millefili multifilo è un cotone deroccato gli sbagli che possono accadere sono questi guardate eccolo qua ce li lascio eh a meno che non siano proprio in punti antipatici ecco vedete qua ho saltato mi è sfuggito da un punto e quindi è saltato via lì poi qui l'ho riacchiappato e mi si è formata un po' la diagonale qua sta un po' più fuori ehm perché non l'ho tenuto eh tra le mani sfugge il lino eh non si controlla molto bene che domina nel movimento della 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 tensione quando si si crea il punto è il filato più più grosso e o il più vischioso in questo caso è più grosso il lino si acchiappa un po' così quindi è un lavoro che di sera non si fa bene perché non si porta avanti bene perché le ombre non fanno ben comprendere e tra l'altro è un materiale che non si avverte sotto le mani insieme al cotone allora cosa intendo per cotone multifilo millefili eccolo qua ve lo faccio vedere subito eccolo vedete nella codina come si apre che tra l'altro ecco questo è il filo che scorre quindi sta bello unito non uso una punta puntita affilata perché non voglio rischiare di separarmelo mentre lavoro già grazie insomma devo già badare al lino mi ci manca solo di rischiare altri impicci io trovo che sia gradevole l'abbinamento ora vi parlo di come sta proseguendo il lavoro quindi ecco sono è un mazzetto di fili molto torti tra loro delle coppie di filo di cotone un cotone 100% non non candeggiato vedete loro sono belli torti ed è un mazzetto non sono il mazzetto non è particolarmente ritorto su se stesso anche se come potete vedere si comporta a modo vicino alle punte si mantiene guardate bello ordinato ecco è questo che può creare dei problemi teniamoci vicino un uncinetto sottile che se ci accorgiamo a lui è rimasto indietro senza far cadere si può far cadere la maglia si va a recuperare come quando ci si sfilano i punti insomma ma a volte anche l'uncinetto lo tiriamo su da dietro si adatta anche abbastanza diciamo si può si può risolvere la cosa vedete anche qua me lo sono accorta tardi che ecco che l'ho saltato l'ho saltato pazienza sta sul rovescio eh poi quando verrà lavato il capo il tutto sarà più un pochino più legato ecco e cosa avevo pensato avevo pensato di creare delle righe alternandomi il lino celeste con il lino rosa shocking eccoli qua vi faccio vedere la differenza che c'è fra un lino questo è un bagno di indaco un bagno molto chiaro c'è stato un periodo dove l'inificio cannapeficio nazionale faceva questi esperimenti questo è un prototipo che io ho ottenuto grazie insomma ad una persona che mi faceva proposte di questo genere quindi anche piccoli quantitativi di filati di qualità e essendo un prototipo non ne sono stati prodotti chissà quanto insomma diciamo un'unica produzione potrebbe essere stata che ne so 70 kg ecco lui eccoli qua i due sono diversi il celeste è un due capi e il rosa è un capo solo insieme guardate proprio non mi modificano assolutamente niente nella consistenza e rende in questo caso il rosa più tenue però vedete la densità è un conto a vedere la rocca è un conto a vedere il filo singolo noi dobbiamo sempre guardare i fili singoli tra le nostre dita per capire come potrà esercitare la sua presenza manifestare la sua presenza soprattutto quando li abbiniamo i filati sottili e i filati diversamente spessi sono luminosi da lino e mi piacciono tanto allora perché ho cambiato l'idea che avevo all'inizio che ho avuto all'inizio cioè quella di realizzare delle righe perché poi parte sempre guardate spesso la creatività diventa un gioco e che ne so quanto si fa lungo questo intervento colorato finché c'è il filato magari è un gomitolino che sta finendo come sarà distribuito il colore su questo progetto? vediamo quanto filato ho di più o di meno non parto da spesso e non sempre diciamo non parto da un'idea dico voglio fare delle righe di questa dimensione guardo in questo caso avrei potuto fare entrambe le cose fare delle fasce di colore come no perché considerando a quanto sono sottili ne ho parecchio di filato ma siccome di rosa ne ho molto di più ed è anche un colore che a mia nipote piace allora ho deciso di fare una prima fascia questo sarà un capo a pannelli che io cucirò probabilmente avrà anche delle maniche non sarà una canotta ma non è detto vedrò man mano come mi risulterà quindi ho fatto questa prima fascia questa prima riga alta con il celeste sono passata al rosa ho deciso che il rosa dominerà il tutto quindi vedrò come mi renderà questo filato in tutto ho 600 grammi di filato ogni gomitolo che è stato fatto dalla rocca porta circa 100 grammi quindi ce ne ho abbastanza ho realizzato una partenza bella ampia quindi sicuramente sarà un capo svasato potrà avere un aspetto trapezio oppure quadrato vedrò vedrò ci penserò ma diciamo che il davanti e il dietro avranno sicuramente questa partenza celeste tutto il corpo il resto del corpo avrà questa presenza di rosa così anche le maniche se le farò e vicino al bordo realizzerò particolari con il celeste mi era venuta in mente di realizzare una sorta di collaretta mantellina alla marinara ora vedrò ci penserò perché mia nipote ha abbastanza ironia da indossare con divertimento e credibilità anche un capo marinaro classico avendo poi lei una mamma che è skipper la possiamo ormai definire skipper la mia iaia la nostra iaia che ha preso la sua bella patente nautica quindi adesso vado avanti vi faccio vedere come gestisco mi abbasso scusate mi devo recuperare il marcapunti ecco il marcapunto mi ricorda dove devo cambiare il mio modo di lavorare non risparmiamoci diciamo l'uso di questi attrezzi perché ecco ci rendono sicuramente il lavoro più scorrevoli io spesso lo metto anche vicino alle maglie di margine che adesso non mi viene in mente come si chiamano poi voi lo sapete insomma ecco adesso io proseguo con il mio lavoro cerco di tenere ben saldo il cotone ecco vedete che scorre sì ma rimane anche abbastanza aderente al ferro questo materiale mi è proprio congeniale ecco qua vedete che è scappata ecco l'acqua di aria che abbiamo era scappata l'asolina rosa lavoro fino in fondo tutto a dritto e poi la prima maglia la passo a dritto mi si forma questo dentino ed è quello che io userò come riferimento per cucire mi piace la cucitura evidente e piatta sui lati tra l'altro contribuirà a enfatizzare il motivo delle coste a legaccio ecco qua siamo sul rovescio ho girato il mio amato ferro dritto pulisco vedete ma mi viene istintivo pulisco i due fili quindi questo movimento toglie le possibili asoline che si possono formare col filo più sottile e passo lavoro a dritto poi ho due maglie a rovescio ho due maglie a dritto ho due maglie a rovescio e un'ultima maglia a dritto passo il marca punto me lo giro di qua così non mi rompe le scatole ecco qui e poi vado avanti realizzando una maglia rasata a rovescio vi faccio vedere il davanti come si rappresenta questo tipo di lavoro che tipo di schemino si deve realizzare ora ve lo faccio vedere io ce l'ho sotto gli occhi perché così intanto ci ho butto l'occhio appunto ecco qua quindi abbiamo una costina da una maglia una costina da due maglie e poi abbiamo altre due maglie all'inizio del ferro la maglia di vivagno ecco che non mi viene in mente prima che realizzo passando a dritto la prima maglia lavorando a dritto l'ultima e invece questa è proprio una maglia dritto davanti e dietro vedete che rimane abbastanza piatto una volta cucito si vedrà molto bene il particolare spero che la cosa vi sia piaciuta che vi possa interessare essere utile questo era l'altro colore che mi ero tenuta in buono poi alla fine ho deciso di non alternare questi tre colori quindi questo beige freddo con il rose e con il celeste vi faccio vedere come ho realizzato lo schemino che è come l'ha presentato Dropsc tra l'altro si può ampliare si può portare per tutta la maglia insomma questo tipo di motivo eccolo qua a dritto come vedete i quadratini vuoti mi rappresentano la maglia rasata quindi a dritto sul diritto rovescio sul rovescio le parti piene sono le ripetizioni di dritto sul rovescio mentre i quadratini vuoti sono il rovescio sul rovescio non so se sono stata chiara ma vedete il pieno non ho realizzato i vivani in questo caso insetti che guai allora ho un ansietto che mi sta camminando su per la gamba allora dritto qui siamo sul per la riga centrale quella di rovescio è quella di rovescio quindi abbiamo un dritto due rovesci due dritti due dritti davanti a due dritti mi danno al legaccio due rovesci alle spalle di due dritti mi danno la maglia rasata dritta o rovescio da una facciata e di nuovo un dritto su dritto il ferro di ritorno sarà tutto a dritto perché sarà sul dritto del lavoro quindi avrò dove mi serve la maglia rasata e dove mi serve il particolare a legaccio vi ho abbastanza ubriacati bene proseguo ah qua poi vicino a me ho questi giochini che Camilla mi ha riportato non so se vi ricordate che mi sono fatta arrivare dei prodotti dal sito Terre Blu dei prodotti pronti per la colorazione artigianale quindi non richiedono un lavaggio ma solo di eseguire le ricette e la tecnica di applicare la tecnica desiderata immaginata sui propri filati quindi abbiamo le tonalità calde le tonalità fredde e poi vedrete qualche gioco tra un po' aspettiamo giugno forse per fare questo tipo di lavoro questi sono prodotti reperibili da Tiger quando gli arrivano un paio di volte all'anno o una volta all'anno poi ne riparleremo vi auguro un buon primo ancora un buon primo maggio mi sorseggio il mio infuso e ciao ho!